Video confronto tra OnePlus One e ZOOC Z1 Entrambi li sto tenendo nel stesso meccanismo che ho creato per contenerli E andiamo a vedere le fotocamere a confronto Entrambi da 13 megapixel, sensore Sony Ci spostiamo, nel frattempo vi dico che nessuna delle due è stabilizzata otticamente Entrambi digitalmente, ci spostiamo un attimo, facciamo un pan veloce Così vediamo anche le stabilizzazioni a confronto Eccoci qui, andiamo in un contro luce, poi più in ombra Torniamo un attimo in macro per vedere come si comportano i due sensori Ovviamente non sono perfettamente allineati Ma vedete che OnePlus One riesce a catturare dei colori più naturali, più vivaci Spostiamoci adesso in macro ZOOC Z1 che arriva fino a un 6x ma lo mettiamo a 4x per confrontarsi in maniera più equa con OnePlus One Eccoci qui OnePlus One che arriva invece, come vi dicevo poco fa, a 4x Vedate la differenza e i dettagli OnePlus One assolutamente molto molto migliore in quanto a Zoom E finiamo andando un attimo in una passeggiatina per vedere come si comporta la stabilizzazione digitale E andiamo a fare un contro luce per finire Eccoci qui Per questo confronto è tutto Saluto Alberto per Android.net Grazie a tutti Grazie a tutti